Sono in circa 800 divisi su due barconi avvistati a sud di Lampedusa. Le due carrette del mare sono state soccorse a largo dell'isola e ora stanno viaggiando verso la terraferma, ma un terzo barcone, stracarico, è stato da poco avvistato e dall'isola è in partenza un'altra squadra di soccorso. Il mare nel canale di Sicilia si sta ingrossando, spinto dallo scirocco, una minaccia seria di naufragio e quindi di morte per gli uomini a bordo del terzo barcone, che qui vediamo stracarico nelle immagini girate dall'elicottero della Guardia di Finanza. Se tutto andrà come previsto, entro questa notte tutte e tre le imbarcazioni saranno al sicuro nel porto di Lampedusa. Sull'isola sbarcheranno quindi un migliaio di persone che dovranno essere prese in cura delle già affaticate strutture di accoglienza presenti nell'isola. Intorno alle 14 erano già sbarcati a Lampedusa in 267, di cui 17 donne e 4 bambini di provenienza sub-sahariana partiti dalla Libia. Ieri sera erano arrivati 77 tunisini salpati da Sfax, dopo 10 giorni consecutivi senza nessun arrivo.